cartoni animati che insegnano essere il buono il computer è molto tutto ma ciò che viene fatto da mani è più prezioso poiché ogni persona è unica come è la sua opera di arte durante la settimana faremo ripresa per il video di come è diverso a un spazio la sua opera di arte Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Dice un proverbio dei tempi, andati meglio soli che mali accompagnati, più ne sono, più bello assai, in compagnia lontano vai. www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione!